Allora, grazie per il suo racconto da Bruxelles. Introduco adesso il nostro secondo ospite di oggi, perché ci occupiamo del ruolo delle microimprese in Italia. Allora, io introduco subito, collegato via Skype, Dario Costantini, presidente della CNA, l'associazione che riunisce microimprese e l'artigianato in Italia a oltre 620 mila gli iscritti. Benvenuto a Economi24. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Ecco, Costantini, chiedo a lei, come associazione CNA, visto che in queste settimane tutte le istituzioni, i grandi previsori hanno rivisto le stime sulla crescita, che scommessa fate sull'andamento dell'economia italiana quest'anno? Questo è un periodo dell'anno di previsioni. Innanzitutto stiamo a guardare, stiamo ad ascoltare tutte le previsioni che si stanno susseguendo. L'1% del governo, la Banca d'Italia lo 0,6%, il Fondo Monetario lo 0,7%. Abbiamo il nostro osservatorio interno che ci dice che gli ordinativi del 2024 sono minori rispetto al 2023. Però, vede, noi rappresentiamo l'economia reale e quindi mi permetto di palesare a lei e ai suoi telespettatori che saluto quella che è la previsione della nostra gente. La previsione è che ho raccolto facendo 190 mila chilometri in questi due anni in tutti i territori italiani, dal sud al nord, entrando nelle imprese. Ovviamente le nostre imprese sono preoccupate perché non dimentichiamo che ogni giorno apriamo i giornali e ogni giorno impariamo di nuovi conflitti, magari in quei paesi dove le nostre imprese con tantissima fatica stanno cercando di vendere i propri prodotti. Cosa si aspettano le nostre imprese? Che guardi, per le nostre imprese 0,7% o 1%, fa poca differenza. Le nostre imprese si aspettano innanzitutto che la BCE velocemente vada a tagliare i tassi e questo taglio dei tassi corrisponda a un reale calo dei tassi bancari. E poi le nostre imprese hanno bisogno di lavorare, le nostre imprese sanno che non c'è crescita, non c'è sistemazione dei conti, non c'è nessun risanamento se non si può iniziare a investire e a lavorare. E io in giro per l'Italia ho raccolto due suggestioni particolari che attengono alla voglia di competitività delle nostre imprese. Innanzitutto registriamo che nell'anno 2023 noi non abbiamo speso come paese 40 miliardi del PNRR e sarebbe buonissima cosa che magari 20 di quei 40 miliardi provassimo a spenderli quest'anno. Ma a proposito di PNRR mi consenta di esplicitare una richiesta fortissima delle nostre imprese senza dimenticare che da due anni le nostre imprese stanno vivendo una gravissima crisi energetica. Noi dall'aprile del 2022 stiamo sostenendo un progetto per l'autoproduzione di energia sui tetti delle piccole imprese il governo ha accettato di cambiare il PNRR il 2 marzo è uscito finalmente è stato bollinato quel decreto che ha dato ragione e attraverso il quale il governo ha ascoltato il grido di aiuto delle nostre piccole imprese. Significa che ci saranno mi perdoni 6.3 miliardi da spendere che genereranno 13 miliardi di investimenti però bisogna fare presto e fare in modo che le imprese possano per fare presto utilizzare semplicemente questi soldi perché veda le nostre imprese tutti i giorni competono sui mercati internazionali e se noi per esempio paghiamo l'energia quattro volte di più dei nostri competitor europei arriviamo nella competizione già zoni. È uno svantaggio competitivo storico dell'Italia e delle imprese italiane abbiamo preso appunti Costantini resti con noi è il momento della borsa